Ora siamo con mister Caserta, che tipo di gara è stata? È stata a mio avviso una bellissima partita dove il primo tempo, i primi 30 minuti abbiamo fatto una grande partita poi per bravura anche dell'Arezzo che veniva a prenderci un po' più alti abbiamo rischiato qualche giocata e loro, come ho detto prima, sono stati bravi a venire con una pressione molto alta e quindi ci costringeva magari a tirare palla su e non fare quello che facevamo nei primi 30 minuti del secondo tempo a mio avviso siamo partiti molto molto bene, abbiamo fatto gol, potevamo fare il secondo dovevamo essere più cattivi sotto porte, magari chiuderla, poi è normale che all'ultimo puoi anche rischiare di pareggiarla perché poi ha avuto qualche occasione anche l'Arezzo ma credo sia stata una vittoria molto importante e meritata da parte nostra Cos'è cambiato con l'uscita di Melchiorri? Ma poco, diciamo, Elia ha caratteristiche diverse, Melchiorri chiede di partire esterno, di venire dentro al campo e creare magari quelle difficoltà tra le linee alla squadra avversaria Elia invece è un giocatore che gioca di più a binario, è un giocatore di gamba Qualcosina abbiamo cambiato però credo abbiamo fatto a mio avviso una buonissima partita al di là del cambio magari di giocatore di sistema di gioco La squadra sta dimostrando di assimilare le sue idee di gioco, a che punto siamo? Ancora molto presto, siamo all'inizio, sono contento perché siamo partiti in ritardo con una situazione non facile da gestire ma grazie all'aiuto da parte di tutti i ragazzi si sono messi a disposizione con la massima professionalità cercando di, non parlando soprattutto dell'anno scorso perché è stata un'annata non facile e non bella quindi c'è tanto da lavorare perché ci sono tantissime cose positive ma ci sono anche altre negative quindi bisogna lavorare e cercare di migliorare su quegli aspetti negativi però credo che la strada è quella giusta, la squadra ha l'attenzione, l'atteggiamento soprattutto è quello giusto di una squadra che vuole fare bene Tra pochi giorni un'altra gara contro il Cesena, che tipo di partita sarà? Saranno tutte partite difficili perché si gioca ogni tre giorni perché quando le squadre giocano contro il Perugia daranno sempre un qualcosa in più perché è normale, noi dobbiamo pensare al di là degli avversari, dobbiamo pensare al nostro atteggiamento non deve cambiare sia in casa che fuori, al di là del risultato poi finale che è una conseguenza di tanti episodi che succedono durante l'arco di una gara noi dobbiamo continuare a lavorare e come giochiamo noi in tre giorni giocano anche gli altri quindi bisogna cercare di recuperare il massimo e cercare di sfruttare tutti i giocatori della Rosa perché credo, sono convinto che sono tutti utili alla causa